Non si placa la polemica sul servizio di elisoccorso della ASRA di Pescara. Una vicenda venuta fuori dopo le segnalazioni del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo sei mesi fa. Ieri si è tenuta l'audizione del manager dell'azienda sanitaria pescarese Armando Mancini nella commissione di vigilanza della regione, che però non ha granché risolto i nodi, che restano essenzialmente due. Il primo, la possibilità di usare il verricello e di compiere interventi in questa modalità. La ditta giudicatrice potrà montare il verricello, ma non è il problema del montare il verricello o meno. Il problema è che poi gli operatori devono essere in grado e devono essere formati per poter naturalmente effettuare i soccorsi verricellati. Quindi adesso noi abbiamo già, il Dipartimento Salute e Welfare ha già prodotto una bozza per quanto riguarda il regolamento per la formazione di questi operatori che è all'attenzione del Comitato regionale dell'emergenza Abruzzo per eventuali suggerimenti. Questo regolamento potrà essere adottato anche a breve. A oggi, dopo sei mesi, siamo ancora a livello che è stato detto dal dottor Muraglia. Sta preparando una delibera, un regolamento, devono essere fatti corsi di formazione. Quindi ci ha assicurato che forse, anzi, lui ha assicurato che per fine anno tutto sarà a posto. Credo che sia uno stato di inefficienza e inefficacia più che visibile e alla portata di tutti. Il secondo aspetto è l'impossibilità di far atterrare l'elicottero sulla piazzola dell'ospedale di Pescara. L'aereo pesa 4.600 kg. Quella piazzola è testata per oltre 24.000 kg. Quindi, francamente, non si capisce. Comunque c'è un problema tra il Comune di Pescara e l'Alza di Pescara. Solite cose all'italiana e sta di fatto che la piazza non viene sistemata secondo quelle che sono le richieste oggi con le nuove norme antisismiche e quindi l'elicottero per il momento è fermo, parte e arriva dall'aeroporto d'Abruzzo. Ci deve essere un'ambulanza, quindi altri costi, altro personale che viene utilizzato per una inefficienza e un'efficacia della Alza di Pescara, della direzione regionale e soprattutto dell'assessorato.